Ciao a tutti, sono Nando, educatore delle politiche giovanili su Bergamo per AIPER. Qualcuno mi conoscerà meno, qualcuno mi conoscerà di più, siccome è solo dal 23 giugno scorso che lavoro in, per e con AIPER. Ed è proprio da quel 23 giugno che si è messo in moto qualcosa, qualcosa come un cambiamento. Quando penso alla parola cambiamento mi viene in mente sempre un momento, un momento della tua vita in cui arriva qualcosa, in cui arriva qualcosa che cambia, non solo quel dato momento, ma che inizia a cambiare tutto intorno, tutto intorno, e inizia a darti forma con l'esperienza che pian piano si fa sempre più eroente, e ti gira attorno regalandoti sempre più, e a questa non puoi, a questa forza, a questo cambiamento, non puoi che arrenderti. Cambiamento che in questo periodo ha visto anche le politiche giovanili rinnovarsi, di pensarsi, adattarsi, arrendersi a ciò che abbiamo vissuto in questi mesi, perché proprio per questa resa e da questa resa, da questo arrendersi dei miei colleghi, che sono nate nuove consegne, proposte, nuovi progetti, e da qui tutto cambiava. In fondo cambiare è un verbo, è un'azione, è una vera e propria stagione, credo che sia una vera e propria stagione da vivere.